per guida i campionati siamo con sergio fattorel sergio che partita una bellissima partita innanzitutto un scontro diretto così con tanta gente tanto pubblico è una cosa spettacolare vedere nel calcio femminile queste cose ci siamo riusciti per la seconda volta e riuscendo anche a vincere anche oggi quindi ci porta bene bomber de martin si è riconfermata gol al trevignano nel derby davanti a 500 persone gol oggi davanti a 500 persone e sempre il 2 1 mi sembra e sempre il 2 si adriana fa un grosso lavoro un sacrificio enorme per la squadra è quella che ci dà le sponde infatti le altre fanno più gol ogni tanto lo fa anche lei dovrebbe essere un forse un po più concreto sotto porta oggi l'ha fatto bravissima temevi le riparte la partenza a razzo del marcon invece a razzo è partito il vittorio vento si per affrontare la squadra così dovevamo affrontarle al cento per cento su tutti i su tutti i settori del campo ci siamo riusciti perché il marcon è una grossa squadra a delle giocatrici molto importanti oggi siamo riusciti a chiuderle e fare anche delle ripartenze peccato che abbiamo sbagliato alcune ripartenze secondo me potevamo chiudere la partita prima comunque è bello lo stesso verso il finale ti sei voluto coprire e sei passato ai 4 4 2 se ovviamente vince contro la prima la contro la capolista a 10 minuti alla fine ho messo in campo una giocatrice per fare 4 4 2 perché con tre davanti più una mezza punta era anche un po pericoloso i ragazzi hanno dato al massimo si è visto tanto si è visto soprattutto nei crampi di De Martini e ci so allora innanzitutto colgo l'occasione per dire che ringrazio innanzitutto tutta la squadra dalla prima alla ventesima alle giovani che vengono con noi perché si impegnano al massimo e ho piacere che loro hanno vinto questa partita perché loro se lo meritano e tutto quanto vorrei ringraziare anche comunque tutto lo staff e tutti i dirigenti tutto il pubblico che ci segue e così possiamo fare passi da giganti ora c'è la pausa c'è la sostanza natalizia si riprende l'11 gennaio però c'è in serbo già una partita amichevole contro il pordenone se non sbaglio il 3 sì cerchiamo di farla amichevole per tenere contro il pordenone la squadra più quotata di noi per tenere il ritmo anche perché adesso faranno un po di riposo dopo dobbiamo iniziare alla grande e abbiamo due trasferte molto difficili al quale reggio emilia e anche a iesi adesso ci fa gli auguri per il buon natale dunque vi ringrazio che mi date l'opportunità vi faccio gli auguri a tutti quanti e buon natale e fine anno a tutti quanti grazie a ma mister sergio fattore grazie a tutti mi chiedato no grazie 98 come entrare in una partita così concitata che era ancora in biligo diciamo che io che sono giovane comunque è una grande emozione perché comunque affrontare una partita così che comunque negli spogliatoi si sentiva è una grande emozione cioè io avevo un'ansia assurda però meno male mi è passata dai l'importante aver vinto e questo è l'importante insomma il terroperma che ha messo la freccia come dicevamo in settimana quindi ha superato il marcon sale a quota 32 e diciamo che era il nostro era il nostro scopo però l'importante ovviamente essere davanti alla fine non adesso quindi aspettiamo e vedremo la fine insomma speriamo bene siamo michela grazie a voi siamo ora con adriana adriana de martin 2 a 1 al trevignano il gol tuo al novantunesimo 2 a 1 oggi il gol tuo al terzo del secondo tempo non posso parlare piccola ragazzi andate a lavarvi ragazze che meglio riconcilia un attimo dopo questo exploate le tue compagnie dicevamo un gol al trevignano il 2 a 1 al novantunesimo un gol 2 a 1 oggi al terzo del secondo tempo comunque bombe del mattino le partite importanti sì quest'anno ho fatto pochi gol decisivi è andata bene così anche oggi secondo me abbiamo fatto una buonissima partita siamo partite subito aggressive ha fatto un gol già non in primo tempo una cosa spettacolare secondo me veramente poi nel secondo tempo sali partite subito aggressive abbiamo trovato questo gol del 2 1 poi state brave a mantenere comunque il pallino del gioco abbiamo un po sofferto alla fine però dai ci sta troviamo un stanche abbiamo controllato la situazione dopo il vantaggio iniziale sembrava che questo vittorio anzi è sembrato proprio che questo vittorio abbassasse un attimo il baricentro come temeva giulia darà in settimana e difatti avete preso il gol del pareggio comunque poi nel corso di tutta la ripresa le avete qua quasi non dico si acciate ma quasi insomma sì nel secondo tempo mi è un po' cambiato la disposizione in campo che avevamo rispetto al primo tempo abbiamo spostato viola da mediano a trequartista e abbiamo visto forse più gioco perché all'inizio non ci trovavamo tanto nel primo tempo e mi è stato dato questa ottima soluzione nel nella pausa è nato bene dai ora c'è ancora una sfida prima del giro di boa siete in testa con 32 punti sì siamo in testa abbiamo solo un punto di vantaggio quindi abbiamo visto che insomma il maestro una buonissima squadra quindi fino alla fine sulla battaglia abbiamo ancora una partita difficile per finire il girone di andata e poi ripartiamo con il ritorno che speriamo bene ringraziamo Adriana e buon campionato ci fai gli auguri scusa volevamo proprio che ci facessi gli auguri anche tu faccio gli auguri di Natale a tutti i tifosi del calcio femminile vittorio veneto grazie Adriana ciao grazie